e andiamo con la scuola, la scuola è finita, ti ho trovato in questa bella pasticceria ti ho trovato questa bellissima scuola e ho trovato questa professoressa di matematica eccoli qua che fanno due calcoli tra un pasticcino e l'altro esatto, c'è questa scuola, praticamente ringraziano anche la professoressa che è stata insieme tutto l'anno adesso sentiremo la professoressa cosa che ci dice sentiamo ma dica un po' come sono, come sono stati hanno fatto passi da gigante da gigante adesso vederli tutti intorno qui in questo modo è una soddisfazione una bella conclusione sono contento, auguro a tutti i ragazzi di questa scuola delle buone partenze speriamo di rivederci ma lei cosa ha insegnato, cosa ha insegnato lei? matematica benissimo, salutiamo questa scuola, gli facciamo tanti auguri per il prossimo anno perché questo è il secondo anno sì, è il prossimo anno, la terza e avranno l'esame salutiamo la professoressa di matematica